Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità da oggi e sino a domenica, festa di San Pietro e Paolo nella Basilica di San Paolo fuori le mura, sotto il profilo della viabilità via Ostienze sarà chiusa da via Giustiniano Imperatore a via Giulio Rocco con una deviazione per 6 linee di bus, domani invece, domani pomeriggio a partire dalle 14 in centro, è previsto un corteo tra Piazza dell'Esquilino e i fori imperiali passando per via Cavour e largo Corrado Ricci, ci saranno temporanee chiusure e deviazioni